Ben ritrovati da oltre la cronaca in diretta su Telepace, tante le notizie di cui ci occuperemo oggi e iniziamo parlando dei 100 profughi, 101 per l'esattezza, provengono dalla Siria, sono arrivati con un secondo corridoio umanitario in Italia in modo del tutto sicuro, quindi con un volo aereo. Il progetto è stato possibile grazie all'accordo raggiunto a metà dicembre tra Governo Italiano, Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese e dunque sono arrivati questa mattina a Fiumicino dove c'è stata anche una conferenza stampa per presentare questa bella iniziativa che per la seconda volta porta in Italia in modo sicuro, quindi senza dover affrontare i pericoli di una traversata per mare i profughi che scappano dalla guerra in Siria in questo caso. Oggi nel mondo si ricorda la giornata per la libertà di stampa, una situazione questa che non è presente in tutti i paesi e spesso anche nei paesi con forme di Stato democratico, la libertà non è sempre così scontata come possiamo ricordare anche il problema della mafia in Italia. A questo proposito, in una nota del Segretario Generale del Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, Antonio Libonati, si ricorda che negli ultimi dieci anni in Italia si contano quasi 3.000 tra giornalisti, blogger, fotoreporter e videoreporter vittime di intimidazioni e di abusi. Alcune protesse e sit-in si sono tenuti ieri anche in Italia in particolare per la libertà di stampa. In alcuni paesi come l'Iran, l'Egitto, la Turchia che detiene un numero altissimo di giornalisti che sono stati imprigionati e poi ovviamente il nome che è stato fatto si è chiesta ancora una volta verità per Giulio Regeni, il ricercatore universitario ucciso barbaramente in Egitto. Ma adesso vediamo se abbiamo il collegamento con Fulvio Scaglione, vice direttore di Famiglia Cristiana, per parlare con lui di questo tema della libertà di stampa nel mondo, di quanto effettiva è questa libertà di stampa. Pronto o buongiorno? Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora non è così scontata la libertà di stampa, ovviamente soprattutto in quei paesi che non hanno una forma di Stato democratico. Quale quadro possiamo farci? Naturalmente la libertà di stampa è una delle libertà come quella di religione, è una delle libertà essenziali che contraddistinguono le società democratiche e quindi è anche una delle prime che viene repressa o soppressa addirittura quando le società non sono democratiche. Non è un caso oggi, questa giornata mondiale per la libertà di stampa 2016 coincide con il 250esimo anniversario del primo trattato sulla libertà di informazione, che è un trattato che fu firmato nei paesi nordici all'epoca che copriva i territori che 250 anni fa, i territori che oggi sono Svezia e Finlandia. Non è un caso se anche oggi, 250 anni dopo, proprio Finlandia, Svezia e i paesi nordici e i paesi nordici in generale guidano la classifica della libertà di stampa, sono anche le democrazie diciamo più evolute, più ricche di garantismo, più inclini a proteggere i diritti dei cittadini. Per venire a noi purtroppo dobbiamo registrare che noi siamo, l'Italia è scesa piuttosto in basso nelle graduatorie, abbiamo perso 24 posti rispetto all'anno precedente, siamo al 73esimo posto come libertà di stampa, siamo tra paesi a cui magari noi guardiamo con un minimo di sufficienza come la Moldavia, il Nicaragua, non è una bella cosa. Ecco di solito in Italia il problema grande è quello della mafia, ma abbiamo visto in questi ultimi tempi anche la corruzione o anche la forza di alcune ideologie, delle lobby, insomma non è facile essere giornalisti liberi? Io vedo anche, certamente parlando di giornalismo di inchiesta in Italia c'è, magari piacerebbe averlo ancora di più, però bisogna scontrarsi contro dei poteri forti in ogni caso. Sì, è comunque anche contro delle legislazioni forti, per esempio Reporter Senza Frontiere segnala come in Italia per esempio siano moltissime le centinaia le cause per diffamazione che vengono intentate anche in maniera ingiustificata contro i cronisti per intimidirli, perché poi le richieste di danni sono altissime e quindi alla lunga i giornali sono spesso in crisi economica, hanno dei problemi ad affrontare delle cause di questo genere, quindi anche questa è una forma di intimidazione. Certamente la lotta degli interessi lascia spesso sul campo la libertà di stampa, questo è chiarissimo ed è chiaro anche in paesi che come per esempio l'Italia naturalmente si vantano per le loro istituzioni democratiche. Fulvio Scaglione un'ultima domanda, per essere veramente libero il giornalista non solo deve avere un grande coraggio, non tutti ce l'hanno, ma deve soprattutto essere molto preparato, cioè essere molto competente, perché altrimenti può essere facilmente manipolato, è così? Io credo che la competenza come in tutte le professioni sia appunto sinonimo di libertà, nel senso che dà una sicurezza e anche una garanzia, una sicurezza al giornalista medesimo, è una garanzia a chi legge che il prodotto, tra virgolette in questo caso il prodotto informazione non è adulterato, non ha degli additivi diciamo così impropri e naturalmente questo alla fine si rivolge anche, si trasforma anche in una forma di protezione per il giornalista stesso. Credo sia la condizione di base per un mestiere delicato e per certi versi aleatorio come quello di chi fa informazione. Ed è uno dei mestieri più belli del mondo, bisogna dirlo, questo è che ha una funzione sociale anche molto chiara in alcuni ambiti. Grazie Fulvio Scaglione per essere stato con noi. Grazie a voi tutti, grazie. Grazie, buon lavoro. E adesso ci spostiamo a Verona perché sabato ci sarà un appuntamento particolare in cattedrale, un appuntamento che sarà trasmesso alle 16 in diretta da Radio e Telepace perché c'è proprio il solenne rito di ordinazione dei nuovi sacerdoti che sono sei e che questa mattina durante il loro ritiro preparatorio Roberto Zoppi ha incontrato per noi. Hanno il volto e le aspettative di tutti i ragazzi di questo mondo, i sei giovani della diocesi di Verona che stanno preparandosi all'ordinazione sacerdotale. Nei loro occhi si legge la voglia di dare un senso profondo alla loro vita, di essere felici, di sentirsi importanti per gli altri. Tutto questo passa attraverso una scelta radicale che può sembrare anacronistica oggigiorno, quella di abbracciare l'invito di Gesù a seguirlo sulla strada di un servizio totale. Io vedo l'essere sacerdote come sacerdote per la gente, in mezzo alla gente e con la gente, nelle varie categorie, i giovani, gli adulti, i malati. Ecco, un essere mandato a tutto il popolo di Dio in qualsiasi piccola parrocchia o grande parrocchia che il Vescovo mi manderà. Ma qualcuno ti ha fatto la famosa domanda perché oggi sembra anacronistico a fare il prete fuori del tempo? Sì, molti hanno fatto questa domanda e la risposta è sempre quella. Quando il Signore chiama chiede tutto, di donare tutto. Io anche con fatica, ma anche con coraggio ho scelto di buttarmi in questa avventura. Certo non so cosa mi aspetta nel futuro, ma so che nelle sue mani tutto andrà come lui vorrà. Papà e mamma cosa dicono? Beh, sono contenti di questa mia scelta, anche perché essendo entrato in seminario giovanissimo da sempre poi mi hanno accompagnato anche nei momenti più difficili e anche in momenti più belli. La raccomandazione della mamma? Ma di essere un buon prete, insomma, è molto semplice. Dopo loro sono contenti perché dicono quando vediamo un figlio contento siamo contenti anche noi. Questi sei ragazzi sono storie molto diverse, accomunate dalla voglia di spendersi al servizio del Vangelo, accanto alle persone che la provvidenza metterà sulla loro strada. Un passo nato nel cuore di ciascuno in modo unico e personalissimo. Preti perché si incontrano anche figure straordinarie di prete, così? Certamente nel corso della mia vita ho incontrato tanti preti, tante persone straordinarie che mi hanno testimoniato la bellezza di questo stato di vita, di essere appunto ministri del Signore e questa bellezza mi ha contagiato e mi ha dato tanto entusiasmo e tanta motivazione anche per andare avanti nel mio cammino in seminario e soprattutto per trovare dei riferimenti, dei modelli con cui esprimere questa vita e questa gioia proprio anche seguendo la figura di Caristo. Ma quanto è importante condividere questo momento con altri compagni di strada? È importante e fondamentale perché è da tanto anche che siamo insieme ai seminari e condividere anche questi momenti, questi giorni è per tutti un'emozione intensa e ci accorgiamo che se non vivessimo insieme non sarebbe la stessa cosa, insomma diventiamo prete tutti insieme e quindi condividiamo anche tutta la vita insieme. Cosa vorresti chiedere al sacerdote con il quale per primo condividerai la tua esperienza di sacerdote, con il parroco con il quale lavorerai insieme? Allora lui chiederei che mi sia sempre al mio fianco e sia per me un padre, ecco, che sappia a volte anche dirmi come migliorare, dove magari sto sbagliando, ecco, per creare proprio un rapporto bello, intimo e di condivisione fraterna proprio profonda. Tanti auguri a questi futuri sacerdoti, ricordo la celebrazione sarà trasmessa in diretta sabato dalla Cattedrale di Verona alle ore 16 e adesso cambiamo argomento, parliamo di un paese del Sud America che sta vivendo una gravissima crisi economica da molto tempo, una crisi anche energetica, un paese che ha, possiamo dire, le più grandi riserve di petrolio al mondo eppure ha dovuto ridurre con dei blackout di quattro ore al giorno l'erogazione dell'energia elettrica, insomma, sta vivendo un periodo molto difficile, parliamo ovviamente del Venezuela, nei giorni scorsi la notizia di una lettera del Papa al presidente venezuelano Maduro, ma anche del messaggio dei vescovi del paese preoccupati per la popolazione. Di questa profonda crisi economica vogliamo parlare con la professoressa Antonella Mori, docente di macroeconomia alla Bocconi di Milano. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno a voi. Cosa sta succedendo in Venezuela? Beh, la situazione è una situazione molto difficile, guardando ai dati ufficiali, quindi i propri dati governativi, nel 2015 c'è stata una contrazione molto forte del prodotto, un'inflazione che ha raggiunto il 180%, e i dati anche di fonte non governativa parlano di una situazione ancora più drammatica. La ragione è sicuramente legata al crollo del prezzo del petrolio, il Venezuela era abituato a poter vendere i barili a 110 dollari al barili, adesso il prezzo è a 30, ma qual è stato il problema? È che ha sempre avuto un'economia basata completamente sul petrolio, tutte le entrate fiscali, le entrate dalle esportazioni sono sempre fatte solo il petrolio, non hanno fatto una politica per diversificare la produzione, industrializzare, anzi negli ultimi 10 anni sono stati scoraggiati gli investimenti privati e quindi c'è stato un processo di deindustrializzazione. Però il governo Chavez prima e Maduro ha continuato a spendere soldi pubblici anche se le entrate non c'erano, perché il petrolio non ha più fornito tutte le risorse che forniva 5-6 anni fa. Questo che cosa ha voluto dire? Che per finanziare tutto questo eccesso di spesa è stata stampata tanta moneta, ecco perché oggi le previsioni presenti del fondo monetario dicono che l'inflazione potrebbe arrivare al 7-800% e questo è un disastro per la popolazione, perché quando l'inflazione è così alta l'economia, soprattutto le persone più povere soffrono tantissimo, mancano i beni di prima necessità, non possono più importare medicine, prodotti, perché non hanno le risorse per farlo, non hanno la valuta estera. In più, come lei ha ricordato, adesso c'è anche il problema che il cambiamento climatico sta peggiorando la situazione in termini di fornitura di elettricità, che è sempre stata critica, non sono stati stati gli investimenti appropriati e quindi oggi si trovano anche senza la luce. Chiaramente qui c'è una componente anche forte legata proprio al ninho, cioè a una questione del cambiamento climatico che non colpisce solo Venezuela, colpisce anche tanti altri paesi, ma il Venezuela in particolare perché non ha fatto investimenti appropriati in passato. Ecco, pur basandosi quasi completamente sul petrolio, l'energia in Venezuela è idroelettrica. Esatto, l'energia elettrica e quindi hanno grandi vighe per produrre energia di fonte idroelettrica, ma non sono state mantenute e in questo momento i bacini sono molto bassi. Quindi sì, nonostante, ricordiamoci, il Venezuela si stima che sia il paese con le più grandi riserve di petrolio sottosuolo. Nonostante questo è un paese in questo momento in ginocchio, in una situazione disperata. Scusi, l'ultima domanda. Lei come vede una possibile soluzione anche a livello economico in questo momento così grave, così compromesso anche perché è difficile risalire? Guardi, io sono purtroppo un po' pessimista perché, per nel breve naturalmente, perché invece nel medio periodo il paese è ricco di risorse, però è un'economia che proprio perché è stata basata solo su esportazioni di petrolio, se il prezzo del petrolio rimane basso, non riuscirà ad avere questo come traino. Primo. Secondo, i consumi sono bassissimi e gli investimenti privati non ci sono. Quindi nel breve periodo io non vedo un qualche cosa, la leva che possa fare ritornare alla crescita. Poi un cambiamento di politica economica che negli ultimi anni ha veramente scoraggiato l'investimento privato potrebbe far tornare ad investire anche investitori esteri nel paese. Ecco, però in questo momento no, non si vede questo. Staremo a vedere allora. Speriamo che si trovi qualche soluzione soprattutto per la popolazione. Grazie professoressa. Grazie molte. Adesso lanciamo un altro servizio, parliamo di cose molto pratiche come i pagamenti delle bollette. Allora, una strada preferenziale per trovare un accordo in situazioni controverse quando le bollette non sono chiare, arrivano in ritardo o non si riescono a pagare. È possibile da oggi anche per i clienti di AGSM Verona grazie a un protocollo di conciliazione firmato con le associazioni dei consumatori cittadini. Vediamo. Apre la conferenza stampa con uno sfogo il presidente del gruppo AGSM Fabio Venturi per i cambi contratto rubati all'inconsapevole utente veronese. Negli ultimi giorni è successo anche questo e Venturi non le manda certo a dire, soprattutto mette in guardia dai falsi operatori AGSM che si intrufulano nelle case della gente. Gente che negli ultimi anni ha visto crescere il numero di chi ha problemi con la bolletta, ragion per cui le associazioni dei consumatori hanno firmato un protocollo di conciliazione con il gruppo veronese. Allora, quando il reclamo non sortisce a effetto oppure non vi è una risposta, è possibile tramite l'associazione accedere a questa procedura che è un tavolo di confronto tra un rappresentante dell'associazione e una della società per tentare di trovare un componimento bonario della controverse. La conciliazione è già utilizzata da parecchio tempo nel settore dell'energia con gli altri fornitori, quindi il risultato di oggi, la firma del protocollo di Arno è un importante passo ulteriore per la tutela diffusa degli interessi dei consumatori veronesi. Negli ultimi anni la crisi si è fatta sentire molto sulle famiglie veronesi e i casi di morosità, di ritardo di pagamento sono cresciuti. Lo stato di crisi che si è riflettuto sulle famiglie è stato avvertito anche da noi. Noi vediamo il numero delle sospensioni sulle quali esercitiamo con una certa discrezione proprio perché ci rendiamo consapevoli che lo stato di crisi si è avvertito nelle famiglie. Non vogliamo con questo cedere, però dobbiamo anche controllare il nostro credito perché tutto sommato sono soldi che poi si rivolgono al socio, al Comune di Verona, anche se oggi sul giornale è proprio stato attestato come Verona sia una delle realtà in cui le società pubbliche conferiscono maggiori utili, però l'utile non può essere l'unico obiettivo di un'azienda del territorio. E se i problemi economici ricadono su tante famiglie, le difficoltà si fanno sentire in maniera pesante anche sul settore industriale. La crisi che abbiamo avvertito l'abbiamo avvertita anche con i consumatori business, con le aziende e lì il tema dei crediti è un tema molto critico, molto importante. Si è sentito, noi a un certo punto abbiamo dovuto ridurre il fatturato, cioè scegliere il controllo del fatturato, ma per non avere crediti che non siano esigibili. Quindi abbiamo fatto una scelta di impostazione. Adesso, a dire la verità, avvertiamo un segnale di ripresa, questo è vero. Soddisfatta l'azienda e soddisfatti anche i rappresentanti delle associazioni dei consumatori che con questo accordo chiudono un cerchio virtuoso che eliminerà tempi, burocrazia e anche fastidi per tanti utenti, soprattutto per quelli non più giovani. Fare questo accordo di oggi permette anche alle persone di trovare un'occasione in più per la risoluzione del proprio problema, perché magari delle volte c'è stato un errore nella fatturazione oppure c'è stato un qualche disguido, un qualche problema, insomma. Quindi riuscire a trovare, a permettere di avere un ulteriore passaggio per i consumatori che la procedura di conciliazione permette di trovare. Adesso parliamo di una notizia che è sulle pagine dei giornali di oggi, di un bel sogno realizzato. Stiamo parlando di quello di Claudio Ranieri, l'allenatore italiano che ha portato la squadra inglese Leicester a vincere la Premier League. grande la gioia, perché è stato veramente un sogno, qualcosa di inaspettato per certi versi. E il sogno di Ranieri, la fatica come una forma di bellezza, era il titolo di un articolo uscito alcuni giorni fa su Avvenire, a firma di Mauro Berruto, per tanti anni allenatore della Nazionale Maschile di Pallavolo. Chi abbiamo in linea? Pronto? Buongiorno, siamo tutti felici di questo bellissimo risultato, ma come possiamo riassumere questa scommessa vinta e vinta non a caso? Qui bisogna andare a analizzare la distinzione semantica tra fiaba e favola, perché è una storia veramente didascalica, meravigliosamente sceneggiata, se neanche scriverla ci sarebbe riuscita a farla così bene, perché è davvero la rivincita, ma in senso positivo, non di rivalza, di una serie di uomini, di atleti, di calciatori e dell'allenatore stesso, che insomma con orgoglio è uno dei nostri, è un italiano che è riuscito a fare benissimo in un campionato difficile come quello inglese, che hanno trovato un'alchimia pazzesca, che ha prodotto un risultato mille volte superiore alle aspettative, anzi 5 mila volte superiore alle aspettative, perché come sapete la quotazione per cui i bookmakers inglesi, che di solito sono molto ben preparati su questi temi, valutavano in caso di vittoria del Dax del campionato 5001, come si legge oggi su qualche sito era più facile che Bono diventasse Presidente della Repubblica. Ecco, lei parlava di sceneggiatura e sicuramente questa sarebbe una sceneggiatura perfetta per un film che probabilmente sarà fatto. Sicuramente, esatto, anche perché all'interno di questa storia ci sono tante storie individuali, ripeto, lo considero un mio collega, quindi immaginerà che lo capisco perfettamente, Ranieri come lui stesso oggi ha detto, è lo stesso uomo che era stato cacciato in maniera, con ignominia l'anno scorso dall'essere commissario tecnico della Grecia dopo una sconfitta con le riso e Faro era in Grecia, l'Atene, ed è lo stesso uomo che lui stesso oggi ha tenuto a sottolinearlo, insomma che ho apprezzato molto questo suo modo di leggere questa vicenda in maniera anche equilibrata. Ecco, una rivincita personale sicuramente, ma non solo, lei scriveva in quest'articolo che l'Eister non è una squadra di fenomeni, ma di fenomenali lavoratori che hanno deciso che la fatica può essere una forma di bellezza. Mi colpisce molto questa affermazione. Eh sì, questa è proprio la storia di questa squadra che è fatta di davvero, nel senso più nobile del termine, di operai del calcio, quindi tutti atleti che non avevano mai avuto un grande mercato prima, che non hanno mai stati avvicinati dai grandi club, con storie personali molto particolari, almeno 5 o 6 di loro, che hanno proprio deciso che la cosa più bella che potesse succedere era legata alla quantità del lavoro, alla fatica, che è un termine che noi oggi abbiamo ormai in testa soltanto con un'accezione negativa, no? Cioè come qualcosa che si mette in mezzo fra quello che noi vogliamo e invece questa squadra e questa squadra dimostrano che può essere uno strumento davvero di bellezza per riuscire a costruire una storia meravigliosa sotto tutti i punti di vista. Allora diciamo che un bravo allenatore deve non solo trovare strategie, deve trovare le persone giuste, deve trovare il momento giusto anche per quelle persone. Questo è davvero l'esempio di come questo gruppo di persone, allenatore e atleti si sia trovata nel posto giusto, nel momento giusto a condividere una stessa filosofia, perché questa è anche una grandissima vittoria di squadra e le immagini di ieri, insomma di tutta la squadra riunita a casa del loro capocannoniere Vardi a guardare la partita, davvero come se fosse dei semplici tifosi, rende l'idea davvero di una fratellanza, no? Il termine inglese anche che è circolato, i brotherhood sembrano davvero non una squadra ma un branco, cioè un gruppo di persone che si muove davvero nella stessa direzione, con lo stesso ritmo, con la stessa voglia di raggiungere un risultato comune. Anche questa, nelle mille cose belle di questa vicenda c'è anche questo senso fortissimo del valore della squadra che è una cosa che permette anche al singolo individuo di realizzare i suoi obiettivi. Ecco, in chiusura veramente sorprendente questo risultato di fronte a mondo quello del calcio strapagato, no? Di super campioni sui quali si investe moltissimo. Chissà che non dia un esempio anche ad altre squadre. Mi verrebbe da dire ne avremmo bisogno anche noi nel nostro campionato di calcio, in generale nel nostro sistema sportivo di una storia così, perché davvero questa vicenda restituisce il fatto che lo sport sia ancora un territorio dove davvero il merito può capovolgere un pronostico e una squadra che lavora di più o di meglio di altre possa vincere, non in virtù del budget che aveva a disposizione, ma in virtù della voglia appunto di mettere a disposizione degli altri la propria fatica e il proprio lavoro quotidiano. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. E adesso dallo sport passiamo ad altri campioni, sono i donatori di sangue che si sono ritrovati nei giorni scorsi a Colognola e Colli nel Veronese per la ventiduesima assemblea annuale provinciale dove è stata presentata anche un'app proprio per i donatori. Vediamo. Più di mille nuovi donatori nel 2015. È un buon numero per la FIDAS, forte di quasi 11.500 donatori in 78 sezioni veronesi, in un campo, quello della donazione di sangue in cui non si è mai abbastanza visto le crescenti richieste di sangue e plasma. Lo scorso anno FIDAS Verona ha fornito il 32,5% delle unità di sangue complessive nella nostra provincia. C'è una criticità permanente, vorrei dire, nella nostra provincia perché Verona è una città che ha un'offerta sanitaria molto ampia, che offre cure avanzate. Ci sono alcuni reparti, in maniera particolare l'ematologia, qui del Policlinico e il Polo Chirurgico Confortini a Borgotrendo, in cui si fanno interventi di alta specializzazione e quindi c'è necessità di molte unità di sangue. Solo nei primi tre mesi di questo anno 2016 il direttore del Dipartimento, dottoressa Martinelli, è venuto a dirci, proprio in assemblea, che c'è stato un consumo imprevisto di mille unità di sangue in più, che chiaramente i nostri soci donatori si sono impegnati a fornire attraverso un'incentivazione delle chiamate, però è chiaro che se il fabbisogno è così alto, anche l'impegno dei donatori lo è e noi abbiamo sempre bisogno di trovare nuovi soci. Novità di quest'anno, presentata all'assemblea annuale, la nuova app ufficiale di FIDAS Verona scaricabile sul telefonino per tenere aggiornata la posizione dei donatori. Ci sembra che il ruolo delle associazioni del dono del sangue, che è un ruolo molto articolato, non sia sempre compreso da tutti. Allora abbiamo pensato che una app è uno strumento pratico da avere a portata di mano tutti i giorni per ricevere informazioni su quello che facciamo e anche per avere delle informazioni più specifiche per i donatori relativamente alla loro prossima finestra di donazione, quando possono andare a donare e in caso di particolari necessità, avendo sotto mano di tutti i donatori il gruppo sanguigno, possiamo tramite l'app lanciare dei messaggi di allerta specifici. Ecco, quindi nonostante siano alte le donazioni, gli interventi chirurgici, i trapianti, le trasfusioni richiedono un numero sempre più alto di donazioni. Soprattutto nella nostra provincia, che è un po' una controtendenza rispetto alla realtà nazionale, questo è proprio legato all'alta offerta sanitaria. È chiaro anche che c'è un altro problema, la popolazione è sempre più longeva e l'età avanzata è quella nella quale c'è il maggior utilizzo di sangue, per cui a fronte di un maggior numero di riceventi non abbiamo un ugual maggior numero di donatori, perché come è noto l'Italia è un paese che ha un'età media piuttosto avanzata, e per questo è importante che tutti i giovani, tutti quelli che possono, si avvicinino al dono del sangue. Un appello da ascoltare, tutto per Oltre la Cronaca, grazie per essere stati con noi e arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.